musica 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 jonathan da dove vieni? uè da milano ragazzo nick uè figa 90 ingol o fidanzato? eh sono fidanzato con tutte ragazzi cosa ti aspetti da The Club? eh mi aspetto di trovare la patata avventure o storie serie? no ragazzi storie serie mi hanno rotto i coglioni avventure tutta la vita descriviti in tre parole simpatico estroverso esagerato prima volta che età? uè a 10 anni già ci davo con la vicina di casa il posto più strano dove l'hai fatto? ah no tenda parabolica su al ripetitore di Booster City posizione preferita? la pecorina shalalalalala pecorina serata preferita? e beh ragazzi qua Hollywood tutta la vita cosa guardi in una ragazza? gli occhi come conquisti una ragazza? eh vado lì sbatto l'uccello in faccia e faccio due schiaffi ciuccia manda un messaggio ragazzi sono qua la porta è sempre aperta saluto a tutti ciao The Club grazie di tutto grazie